ciao a tutti amici e bentornati sul canale in questo nuovo video andremo a vedere in che modo realizzare un semplice pannello di comando con due interruttori a bilanciere con doppio scambio a tre posizioni con quella centrale a riposo in modo da poter selezionare con uno le due velocità alta e bassa e con l'altro di selezionare il senso di rotazione della bassa velocità di un motore asincrono a induzione di lavatrice una volta trovate le due coppie degli avvolgimenti che fanno capo alle due velocità alta e bassa e vi consiglio di andare a guardare il video come collegare il motore a induzione di lavatrice vi lascio in alto qui il link ed anche in descrizione vediamo come realizzare un semplice pannello e come collegare il tutto ricordo come sempre che stiamo lavorando con grandezze elettriche di rete quindi potenzialmente pericolose tutti i collegamenti che seguirò saranno fatti in assenza di alimentazione inoltre uso sempre un differenziale ausiliario qui al banco da un pezzo di plastica di recupero come questo vado a ricavare tutti gli alloggiamenti che mi servono per montare i vari componenti e userò come interruttore generale un interruttore con auto ritenuta questo modello sono presenti quattro terminali due di ingresso e due di uscita e la bobbina è collegata internamente mentre in altri modelli possono essere presenti anche sei terminali e due dei quali che fanno appunto riferimento alla bobbina che andranno collegati in parallelo alle uscite vado quindi a montare l'interruttore con auto ritenuta ci sono anche modelli con fungo di emergenza ma nel mio caso dell'utilizzo che farò del motore è poco indispensabile andrò a montare anche un piccolo voltmetro in corrente alternata questo in particolare misura tensioni da 60 fino a 500 volt dalla fonte di alimentazione colleghiamo fase neutro agli ingressi 13 e 23 come indicato nella dicitura sul corpo dell'interruttore e usciamo con altri due cavi grazie a voi in parallelo ai cavi di uscita collegheremo altri due cavi di fase neutro per collegare il voltmetro, il verso della loro posizione è indifferente. Dalla morsettiera poi andremo a prelevare dal cavo di fase due cavi uno marrone ed uno verde per non sbagliare. Ovviamente potete usare qualsiasi colore al posto del verde e il verde lo andremo a collegare al condensatore di spunto del motore. Ricordo sempre che questi tipi di condensatori prima di essere maneggiati vanno preventivamente scaricati con resistori tipo questo per eliminare eventuali cariche residue. Colleghiamo il cavo verde ad uno dei due morsetti e questi due sono equipotenziali e dall'altro polo usciremo con un cavo verde e questa sarà la fase di spunto o avvio come volete chiamarla. Adesso prendiamo uno dei nostri interruttori a doppia commutazione e lo useremo in configurazione di doppio deviatore. Questo ha sei pinne, i due centrali che sono separati tra di loro ed in posizione di riposo non collegano né quelli di destra e né quelli di sinistra. Mentre posizionandolo nella posizione uno i due centrali verranno messi in comunicazione con quelli di destra. Viceversa posizionandolo nella posizione due saranno disabilitati quelli di destra e saranno messi in comunicazione con i due centrali quelli di sinistra. Sfruttando questa configurazione lo userò per selezionare le due velocità alta sulla posizione 2 e bassa sulla posizione 1. Posizionato l'interruttore nel suo alloggiamento prendiamo il cavo quello di uscita dal polo del condensatore quindi la fase di avvio per il motore e lo andiamo ad inserire nel comune dell'interruttore. Mentre il cavo di fase marrone che avevamo prima prelevato dalla morsettiera lo andremo ad inserire nell'altro comune sempre dell'interruttore. Prendiamo poi un altro cavo verde e lo collegheremo in questo morsetto e lo andremo a collegare direttamente al morsetto del motore che fa capo all'avvolgimento di avvio dell'alta velocità. Prima di andare avanti nei collegamenti bisogna preparare un cavo color marrone con un faston alla sua estremità ed un altro faston all'altra estremità collegato in parallelo ad una lampadina al neon. Dalla lampadina al neon andremo a prelevare in seguito il cavo di neutro quindi predisporremo con un altro faston in parallelo con un'altra lampadina al neon che sarà poi collegata ad un altro faston in parallelo con un altro cavo marrone come questo. Quindi un morsetto del cavo marrone di fase lo collegheremo direttamente al morsetto che fa riferimento all'avvolgimento di lavoro per l'alta velocità mentre il faston in parallelo con la lampadina al neon lo andremo a collegare all'altro morsetto dell'interruttore. Dalla morsettiera prenderemo un cavo di neutro e lo collegheremo al cavo della lampadina. Ricordo che questi motori sono progettati per lavorare in alta velocità solamente in senso orario quindi andate a vedere il video di come collegare il motore di lavatrice asincrona a induzione se volete capire il perché. Per quanto riguarda i due morsetti rimasti liberi sull'interruttore per quanto riguarda quello di sinistra che fa riferimento al cavo di fase di spunto andremo a collegare in questo caso un cavo color grigio che poi sarà collegato al comune dell'altro interruttore. Mentre sull'altro morsetto andremo a collegare il cavo di fase che abbiamo precedentemente preparato con in parallelo l'altra lampadina al neon che poi andrà collegato all'altro comune dell'altro interruttore. Collegando in questo modo avremo che posizionando l'interruttore nella posizione 2 verrà abilitata l'alta velocità in senso orario. Selezionando invece la posizione in 1 avremo che l'alta velocità verrà disabilitata e contemporaneamente verrà abilitato l'ingresso dell'altro interruttore per poter invertire il senso di rotazione del motore, questo per quanto riguarda la bassa velocità. Per poter invertire il senso di rotazione per quanto riguarda la bassa velocità questa volta però l'interruttore dovrà essere configurato come doppio invertitore. Quindi vi consiglio di preparare una coppia di cavi come questi della lunghezza che vi servono e vediamo come collegarli. Colleghiamo la coppia di fili appena preparati incrociando l'estremo in alto a sinistra con l'estremo in basso a destra e la stessa cosa la ripeteremo con l'altro cavo incrociando a questa volta l'estremo alto di destra con l'estremo basso di sinistra. In questo modo in una posizione avremo la fase sul cavo rosso e la fase di spunto sul cavo nero mentre nell'altra posizione saranno invertite quindi la fase di spunto sul cavo rosso e la fase inseriamo il secondo interruttore nel suo alloggiamento prendiamo gli unici due cavi rosso e nero rimasti ancora liberi e li andiamo a collegare agli avvolgimenti relativi alla bassa velocità. Come ultima cosa i due cavi grigio e marrone provenienti dal primo interruttore li andremo a collegare ai due comuni dell'altro interruttore. A questo punto tutti i collegamenti sono finiti ovviamente questi sono solo cavi di prova che uso durante le prove e il circuito verrà tutto ricablato con le giuste misure. A questo punto non ci rimane che attivare e vedere se tutto salta per aria oppure funziona come previsto. dando alimentazione il voltmetro segnala presenza di tensione di rete. Selezionando l'interruttore di sinistra sulla posizione 2 il motore gira ad alta velocità in senso orario e la luce spia verde segnala abilitazione per l'alta velocità. Selezionando l'interruttore invece sulla posizione 1 la spia verde si spegne e si accende in contemporanea quella rossa sotto l'altro interruttore indicando che è abilitata la scelta per il senso di rotazione e per la bassa velocità. applicherò poi delle serigrafie al pannello per indicare le scelte possibili tramite i due interruttori. ed anche per questo video è tutto io come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale lasciare un like e condividere il video e di attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Tutto questo per voi è gratuito e per me è di grande aiuto e stimolo per la creazione di nuovi video e la crescita del canale. Un saluto da Frank, ciao e alla prossima!